Guida Galattica per gli insegnanti di musica è tornato e io non potrei essere più felice. È un percorso gratuito che ho creato per insegnanti di musica, soprattutto insegnanti di musica freelance chi vuole diventarlo perché credo che sia davvero una rivoluzione nel modo di vivere questa professione e quindi non guardare sempre e solamente agli aspetti didattici ma anche agli aspetti più organizzativi e pratici di questo lavoro perché tutti noi abbiamo frequentato corsi e formazioni puramente didattiche, magari non solo teoriche anche pratiche, però mai nessuno ha portato l'attenzione su che cosa voglia veramente dire essere degli insegnanti di musica freelance. Ecco, io lo sono, lo sono diventata, non sono nata imparata ma ho studiato per poter far diventare il mio lavoro veramente quello che volevo e soprattutto allinearlo con i miei valori e vivere il lavoro dei miei sogni. Ora lo vivo e voglio insegnarti come fare, voglio accompagnarti passo passo e per questo ho creato Guida Galattica per gli insegnanti di musica in cui staremo insieme per un po' di tempo e lavoreremo su tutti questi aspetti pratici e organizzativi della nostra vita di insegnanti di musica. Quindi io ti aspetto, iscriviti per non perderti l'inizio del corso perché sarà un corso in cui mi avrai a disposizione sempre all'interno del gruppo e in cui potremo farci domande. Avrai una piattaforma dedicata al corso che sarà sempre tuo, quindi iscriviti e fai iscrivere più insegnanti di musica possibili perché dobbiamo cominciare e questo è il momento di prendere in mano la nostra vita da insegnanti e renderla davvero come la vogliamo.